San Giovanni Bosco Nato il 16 agosto 1815 a Castelnuovo d'Asti, figlio di poveri contadini, a vent'anni entrò come esterno in seminario. Per pagarsi la pensione, lavorava tutte le sere facendo l'aiutante in ogni sorta di mestiere, secondo le occasioni. Ordinato sacerdote a 26 anni, nel 1841 istituì la propria vocazione all'Apostolato della Gioventù, visitando un gruppo di carcerati. L'8 dicembre 1841 inaugurò ufficialmente l'oratorio, osteggiato dai benpensanti, ma con il sostegno decisivo dell'Arcivescovo Franzoni. Istituì scuole, laboratori artigianali, collegi e infine la congregazione religiosa dei Salesiani, che perpetuerà nel tempo la sua opera. Nel 1887 inaugurò a Roma la Basilica del Sacro Cuore. Morì il 31 gennaio 1888.